Carissimi amici ben ritrovati, siamo qui a Onigo di Pederoba e abbiamo qui a nostro fianco Fabrizio Fantin che è il presidente del comitato festeggiamenti Onigo. Festa di primavera, il sole ha, la giornata è abbastanza bella, la gente è in affluenza, come si svolgerà la giornata? Oggi è la dodicesima edizione di questa bellissima festa di primavera organizzata dal comune di Pederoba, dall'amministrazione comunale con la collaborazione del comitato festeggiamenti Onigo, gruppo Alpini Onigo e Corrego Cialpina. Una manifestazione che arriva da 12 anni, oggi il tempo speriamoci grazie, questa mattina alle 7 era molto bello, si sta un po' rammugolando, però vedo che la gente comincia già ad affluire, questo è un bel segno, sono molti gli espositori, la giornata si preannuncia bella e buona, quindi speriamo che tutto vada bene, soprattutto con il tempo, che è il 98% delle riuscite delle feste. Abbiamo visto non solo fiori, anche artigianato, anche associazionismo. Sì, tanto associazionismo, artigianato, tutto quello che può servire eventualmente per il giardino, per il fai da te, eccetera, ma poi all'interno di questa festa il bello è che ci sono tutte le cose collaterali che ci sono attorno, che sono organizzate appunto dall'amministrazione comunale e da noi, che sono la mongolfiera nel pomeriggio, c'è il coro dei bambini di Vadoviano, il minicorno a Orizzonti, ci sono gli amici dei cavalli che faranno fare dei giretti a cavallo per i bambini, le mostre fotografiche, ben due, organizzato dal gruppo Alpini di Unigo, c'è ormai la sesta, mi sembra, edizione per i ragazzi delle scuole medie, di Compressorio di Pedrobba, Sarnalia della Battaglia e di Crucente del Montello, fanno dei bellissimi disegni sulla primavera, quindi un insieme di cose belle, ci sono auto d'epoca, cannon d'epoca, moto d'epoca da vedere, quindi un insieme di cose, bello, tutto assieme, una bellissima giornata di festa. Una bellissima giornata, è ancora lunga, ma ci sono già prossimi appuntamenti in programma. Beh, noi abbiamo appuntamenti in programma più avanti, come Comitato Festeggiamenti Unigo, ci troveremo in agosto con la nostra tradizionale festa di Sant'Elena, quindi vi aspettiamo logicamente qui, ma il Comune di Pedrobba non smentisce, da Pedrobba a Unigo e Covolo c'è sempre aria di far festa e di stare assieme, questa è una bella cosa.